Ciao ragazzi, allora, visto che le cose assurde sono praticamente all'ordine del giorno qui nella nostra vita, voglio fare questo video, visto che in realtà tra pochi minuti sto per partire, sto rientrando in Italia e ho un aereo tra poco, però volevo fare vedere questo video per farvi vedere cosa mi è appena successo. Guardate qua, allora, questi sono gli elastici che usa Alice per i capelli, ok? E pochi minuti fa non ci posso credere quando ho visto questo, cioè spiegatemi come è possibile questo. Questi sono gli elastici che lei si era messa, ieri, l'altro ieri ce li aveva sul lavandino, poco fa li ha presi in mano ed erano così, cioè si sono praticamente uniti. Spiegatemi come è possibile questo, ok? Ho provato a scioglierli in tutti i modi possibile, ma come puoi vedere sono esattamente, è come se uno si fosse aperto e l'altro fosse stato messo dentro e poi richiuso, cioè sono perfettamente incastrati così. Spiegatemi come è possibile questa roba e io l'ho presa come un segno, come un segno che nella vita tutto è possibile, ok? Questa è veramente fisica quantistica allo stato puro, cioè anche quelle possibilità che sembrano assurde, io questa cosa la colgo come un messaggio che mi sta dicendo, guarda che veramente ogni cosa è possibile, anche sfondare le barriere della fisica. Ecco, quindi non so se vi è mai capitato un'esperienza simile, diciamo pseudo-paranormale. L'anno scorso, tra l'altro, è successa un'altra cosa pazzesca ad Alice ed è l'orecchino. Aveva un orecchino che l'è caduto e quando l'è caduto era ancora praticamente unito, cioè le due parti dell'orecchino erano attaccate, come se l'orecchino, non so, come se avesse passato l'orecchio e fosse caduto. Quindi, boh, mi capitano spesso queste cose, ma questa è abbastanza pesante. Niente, volevo condividerla con voi e cogliere l'occasione per fare questo video. Questo è il modo in cui la interpreto io, veramente, ragazzi, ogni cosa è possibile, ok? Vi mando un abbraccio, vi auguro buona giornata, sono curioso di vedere i vostri commenti per sapere se qualcuno ha una spiegazione, se magari vi è successo o se c'è un modo in cui due elastici si possono incastrare così, fatemelo sapere se lo sapete. Ciao!